marco pavan che gran bel regalo la maglia rosa in casa cingolani si è stato un bellissimo regalo ci teneva moltissimo visto che siamo in terra marchigiana e quindi anche nella loro terra e ci teneva moltissimo sia per fatto che domani è il mio compleanno sia per il fatto che appunto sono nella loro terra e domani si compie gli anni con una maglia rosa in casa qual è l'emozione l'emozione è tantissima e ci tenevo moltissimo e sono felice di aver finalizzato il tutto ora che hai la maglia di leader che cosa ti aspetti dalle prossime tappe ma mi aspetto di difendermi perché sicuramente non sarà facile ci sono molti avversari molto forti e quindi spero di far bene e di portare a casa questa maglia grazie grazie